Musica Galleria Vittoria, Manfredi accelera per la riapertura sopra al luogo del sindaco al cantiere prevista per Natale la riapertura al traffico. Il primo cittadino ha parlato anche dell'incontro con Draghi a Palazzo Chigi. C'è la massima disponibilità da parte del Premier. Avellino, omicidio gioia, prima udienza al processo. Il 53enne venne ucciso il 23 aprile scorso con 14 coltellate. Alla sbarra la figlia Elena ed il fidanzato che si sono rivisti per la prima volta in aula dopo il delitto. Chieste le perizie psichiatriche ai fratelli della vittima parte civile. L'ospedale di Sant'Agata ora sarà potenziato. È quanto deciso questa mattina in un incontro in regione convocato dal presidente Di Luca con gli attori del territorio. La decisiva mediazione del presidente di Confindustria Benevento ora è stevigorito. Previsto anche un polo per le patologie neoplastiche e la riabilitazione. Covid, contagi in salita, attenzione negli ospedali. 592 casi in poche ore e tre morti. Due giovani mamme in rianimazione al policlinico, al Cotugno, più ricoveri ed è ancora caccia agli ultimi indecisi del vaccino. La dottoressa Tommasielli dell'unità di crisi a 696 TV. Bastano Vax. Coppe politica, Zoccola ottiene i domiciliari. Il rasta delle cooperativi ha lasciato il carcere di Salerno. Al PM ha raccontato i legami tra politiche appalti, tirando in ballo anche il governatore Vincenzo De Luca. L'avvocato Michele Sarno spiega, ha collaborato con i magistrati. Sanno, provincia assente da apice, nuove accuse. Il sindaco del comune Sannita tuona contro la provincia di Benevento e denuncia una serie di criticità ormai divenute croniche. Ad oltre due mesi dal crollo dell'antico ponte, la provincia è latitante e resta irrisolta la questione di abilità. Nei nostri titoli le principali notizie di oggi. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale del canale 696 8 Channel. In apertura a Napoli, il sopralluogo del sindaco Manfredi al cantiere della Galleria Vittoria, prevista per natale la riapertura al traffico. Il primo cittadino ha parlato anche dell'incontro con Draghi a Palazzo Chigi. Ha detto che c'è massima disponibilità da parte del Premier a trovare la giusta soluzione al più presto per il rilancio della città. Il servizio. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha compiuto un sopralluogo nella Galleria della Vittoria, chiusa dal 2020 per problemi di crolli e infiltrazioni. Con il sindaco anche l'assessore Edoardo Cosenza e il responsabile Anas Campania, Nicola Montesano. Confermati i tempi del cronoprogramma, i lavori termineranno entro il 30 novembre. La riapertura al traffico è prevista per dicembre, ma sui tempi il comune non si sbilancia. Manfredi ha abbozzato una previsione per Natale, il tunnel potrebbe riaprire al traffico. I lavori stanno procedendo secondo quello che si era previsto. Chiaro che noi dobbiamo sempre ricordare ai cittadini che la riapertura della galleria è fatta di due fasi. Il completamento ovviamente delle opere che sono state previste, poi la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria del completamento dei lavori e quindi il successivo di sequestro. Quindi alla fine di questo percorso noi saremo in grado di poter restituire alla galleria i napoletani e potremmo finalmente ridurre i disagi che i tanti cittadini hanno soffortato in questi lunghi mesi. Noi ci auguriamo che dicembre sia il messo giusto. Il primo cittadino ha parlato anche dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Draghi. Nessuna certezza ancora sui fondi del patto per Napoli, ma è solo questione di tempo. Da parte della presidenza del Consiglio c'è la massima disponibilità, ha assicurato Manfredi. Adesso stiamo lavorando insieme anche all'assessore Baretta, stiamo facendo una valutazione di quello che fa bisogno. Stiamo lavorando per trovare la soluzione giusta, sicuramente c'è disponibilità. Drammatico incidente sul lavoro a Rotondi, a perdere la vita l'imprenditore Alfonso Maia. Il 50enne era alla guida di un escavatore e si trovava nel cantiere per la realizzazione di alcune palazzine. In un terreno di sua proprietà il mezzo, probabilmente per un problema di dislivello, si è ribaltato e lo ha travolto. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo, inutili i soccorsi del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Prima udienza del processo per l'omicidio di Aldo Gioia, il 53enne di Avellino, ucciso il 23 aprile scorso. Alla sbarra la figlia Elena e il fidanzato richieste le perizie psichiatriche. Per la prima volta Elena Gioia e Giovanni Limata si sono incontrati nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Avellino, dove si è celebrata la prima udienza del processo per la morte di Aldo Gioia, padre della 18enne. Seduti uno di fronte all'altro, ma i loro sguardi non si sono mai incrociati, nemmeno per sbaglio. Elena, con una felpe e giubbetto antivento, era nella cella di sicurezza. Nell'altra, posizionata di fronte, è arrivato il suo ormai ex fidanzato Giovanni. Il giudice, Lucio Galeota, ha accolto tutte le richieste della difesa. Emilia, Giancarlo, Gaetano Gioia, rispettivamente figlia e fratelli della vittima Aldo Gioia, insieme alla moglie, Liana Ferraiolo, si sono costituiti parte civile nel processo. Sarà l'istruttoria dibattimentale, ovviamente, a chiarire responsabilità e eventuali incapacità. E non sarà chiaramente, da parte nostra, non ci sarà alcuna opposizione eventualmente a fare anche un passo indietro rispetto alla Costituzione, oggi depositata anche nei confronti di Elena. Intanto l'avvocato di Elena Gioia, la penalista del Foro di Roma, Livia Rossi, ha chiesto una serie di prove. Chiede l'ammissione dei testi, quali le amiche di Elena, con cui si è scambiato una serie di messaggi, ma in aula sfileranno anche le professoresse del liceo frequentato da Elena. L'avvocato ha anche chiesto l'ammissione di un consulente di parte, uno psichiatra, affiancato da uno psicologo. Mentre la difesa di Giovanni Limata, l'avvocato Fabio Russo, chiede la perizia per la trascrizione delle intercettazioni in carcere, la perizia psichiatrica di Limata e la sua capacità processuale, in quanto il giovane è affetto da un disturbo delirante. La perizia, ma non posso rilasciare altre informazioni. Grazie. Avete fatto qualche richiesta per testi? E' solo consulente. Nel Sannio l'ospedale di Sant'Agata dei Goti sarà potenziato, è quanto deciso questa mattina, in un incontro in regione convocato dal presidente Vincenzo De Luca, con gli attori del territorio e la decisiva mediazione del presidente di Confindustria Benevento Oreste, vigorito. Oltre alle altre funzioni saranno realizzati anche un polo per le patologie neoplastiche e la riabilitazione. Non solo il mantenimento di tutte le funzioni già attivate con gli attuali 96 posti letto e il pronto soccorso, ma anche il potenziamento con un polo per le patologie neoplastiche, in collaborazione con l'Istituto Tumori Pascale e con il professore Paolo Ascierto. Un polo per la riabilitazione, interventi, day surgery e week surgery. È il piano per l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti, al centro di un incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Santa Lucia, convocato dal presidente della regione Vincenzo De Luca. Il buon risultato è stato raggiunto grazie alla decisiva mediazione del presidente di Confindustria Benevento, Oreste, vigorito. Presenti all'incontro con il sindaco di Sant'Agata dei Goti, Salvatore Riccio, il direttore del Dipartimento Salute della Regione, Nino Postiglione, e i direttori generali dell'azienda ospedaliera San Pio Mario Ferrante e dell'Asla di Benevento Gennaro Volpe. Oltre al rafforzamento di quanto previsto dal decreto 41-2019, nei piani superiori dell'ospedale a cura dell'Asla saranno realizzate le strutture dell'ospedale di comunità e della Casa della Salute, con poliambulatori e la centrale operativa e guardia medica. Nel corso della riunione, in relazione anche all'ospedale di Sant'Agata, inoltre è stato confermato il finanziamento della regione per la Fondo Valle e Sclero, per migliorare e potenziare i collegamenti tra la Valle Caudina e la Valle Telesina. È stato domato, dopo alcune ore, l'incendio divampato poco prima delle 13, in un appartamento al secondo piano di Via Merliani, nel quartiere Vomero di Napoli. Paura tra i residenti del Civico 79. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Per fortuna non si sono registrati i feriti, l'inquilina, quanto risulta, non era in casa quando è scoppiato l'incendio. Non sono mancati i disagi per la circolazione dal momento che i vigili hanno dovuto chiudere la strada al traffico. Tanta la paura, anche perché le fiamme hanno sprigionato fumo nero ben visibile, si è temuto il peggio. Si indaga per risalire all'origine del rogo nello stabile. Sono in corso lavori di ristrutturazione. Il Covid aumentano purtroppo i contagi, 592 casi in poche ore e tre morti. Due giovani mamme in rianimazione al Policlinico, al Cotugno più ricoveri ed è ancora caccia agli ultimi indecisi del vaccino. Sono 592 i contagi da coronavirus in campagna su 24.106 tamponi processati. Tre le vittime e i pazienti Covid ricoverati in ospedale. In area non critica in tutta la campagna sono 200. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, dove sono 19 i pazienti. Si abbassa l'età media dei positivi. E al Policlinico di Napoli sono finite due giovani mamme rimaste contagiate dal virus. Intanto il Tribunale di Ischia oggi ha dovuto chiudere per la positività di un avvocato non vaccinato. Avanza la campagna di immunizzazione regionale con le terze dosi, agli over 60, i fragili e al personale sanitario. Ma sono ancora troppi gli indecisi della dose. La dottoressa Giuseppina Tommasielli predica cautela e invita tutti a vaccinarsi per uscire dalla pandemia. Noi è già da tempo che stiamo rischiando, raschiando il fondo del barile. Abbiamo ancora delle prime dosi, prime dosi che sono gli ultimi titubanti. Noi adesso stiamo facendo le terze dosi anche agli ultra 60 anni ovviamente. Quindi stiamo cercando di conciliare ultra 60 anni, terze dosi e anti-influenzale laddove è possibile. Laddove sono passati sei mesi. Quindi stiamo facendo entrambi e la richiesta di terze dosi ce l'abbiamo. Ovviamente con la priorità per gli operatori sanitari, per i fragili, ma anche per gli ultra 60 anni che associano terze dosi e anti-influenzale. Fiorenzo Zoccola ha lasciato il carcere di Salerno e il RAS delle cooperative che ha raccontato i legami tra politiche appalti tirando in ballo anche il governatore De Luca e ai domiciliari. L'avvocato Michele Sarno ha collaborato con i magistrati per accelerare l'arrivo alla verità. Intanto l'opposizione accusa inquinato il voto delle amministrative. Ha lasciato il carcere di Forni per far ritorno a casa in regime di arresti domiciliari. Attenuazione della misura cautelare per Fiorenzo Zoccola dopo l'accoglimento dell'istanza presentata dal suo legale Michele Sarno. Il RAS delle cooperative di Salerno nei suoi due interrogatori ha raccontato dei legami tra il mondo della politica e le imprese. In particolare della garanzia di poter lavorare a Salerno in cambio del sostegno elettorale. E l'imprenditore ha tirato in ballo anche Vincenzo De Luca. Da lui ho avuto indicazioni di voto alle regionali, le parole riferite ai magistrati che coordinano le indagini. Zoccola ha collaborato con gli inquirenti fornendo la propria versione per arrivare alla verità dei fatti. Il commento dell'avvocato difensore Michele Sarno. La vicenda ovviamente sta infiammando la polemica politica. Intervenuta nella rubrica punto di vista condotta dal direttore di 8 Channel 696 per Luigi Melillo, l'ex candidata sindaco Elisabetta Barone è durissima. Durante la campagna elettorale io ho incontrato diverse persone che mi hanno detto che non potevano votarmi perché avevano un voto bloccato. È un voto controllato e si auspicavano che io potessi andare al ballottaggio per poter votare liberamente. Un dato che è un dato sconcertante ed è il fatto che su queste vicende, come sulle vicende della città, il sindaco tace. E sulla vicenda è intervenuto con un post anche Luigi De Magistris. L'ex sindaco di Napoli ha pubblicato nuovamente la foto di De Luca con gli esponenti 5 Stelle. Di Maio, Fico e Ciarambino cos'hanno da dire sull'inchiesta? La domanda che si è posto polemicamente De Magistris. La frenata sugli impianti di energia pulita e l'immobilismo su diverse questioni del territorio. La provincia di Benevento ancora sotto accusa dal sindaco di Apice. Arriva l'ennesimo grido di allarme dopo il crollo di un antico ponte. Sinergia tra enti ed istituzioni, la parola chiave per cercare di far sviluppare progetti e territori e comunità. Un meccanismo delicato che se si rompe mette in crisi i cittadini e amministrazioni. È quello che sta accadendo tra il comune di Apice e la provincia di Benevento. C'è sorda tuo nel primo cittadino Angelo Pipe. Si riferisce alla situazione del ponte crollato ad agosto, le cui macere, o meglio le pietre storiche, sono ancora nel grito del fiume Calure e creano uno sbarramento. Con questi nubi fragili che purtroppo ci accompagnano, determinato da questo cambiamento climatico, possiamo avere ulteriori danni. Mi sembra di rivivere la stessa situazione che si era versuta il 13 marzo di quest'anno, quando preliminarmente c'era stata questa segnalazione. Dal 13 marzo noi ci siamo ritrovati praticamente al 12 agosto, in cui si è avuto il crollo del ponte. Credo che stiamo aspettando che il tempo lo elimini definitivamente. Non solo il ponte, ma anche una serie di progetti per lo sviluppo del territorio, idee messe su carta dall'amministrazione comunale di Apice, ma per le quali il sindaco non ha mai ricevuto risposte. Con la provincia che aveva avviato il discorso del comitato istituzionale di sviluppo, cioè su questa cosa, io non so. Noi abbiamo presentato delle ipotesi progettuali. Allo Stato non so se sono accolte, non so se sono state prese in considerazione, non so lo Stato dell'arte. Io questo è quello che dico. Sono qua tutti i giorni, ci lavoro tutti i giorni, cerco di mettermi in contatto con gli organismi tutti i giorni. Io sono il sindaco del comune di Apice e credo che questo territorio merita l'attenzione giusta. Se forse ho sbagliato perché l'ho messo troppo in risalto, io chiedo scusa a tutti, ma ormai siamo in una condizione di abbandono tale che non è più sostenibile come situazione. La decisione del giudice sui licenziamenti della Whirlpool di Napoli è ancora rimandata. Oggi, sentiti i testi delle organizzazioni sindacali e dell'azienda, auspichiamo che le nostre ragioni vengano accolte, ha detto la segretaria FIOM CGL nazionale, Barbara Tipaldi. Ancora una fumata bianca sul caso Whirlpool di Napoli, rinviata alla sentenza sul ricorso presentato dal sindacato sui licenziamenti dei 320 lavoratori. Il giudice si è riservato per i prossimi giorni una decisione in merito al processo, ascoltati oggi i testi delle organizzazioni dei lavoratori e dell'azienda che hanno avvalorato le tesi delle parti. Poi si è passati all'esame delle motivazioni della causa. Ci aspettiamo che le nostre ragioni vengano accolte, che ha chiarito al termine dell'udienza tenutasi a Palazzo di Giustizia, la segretaria FIOM CGL nazionale, Barbara Tipaldi. Noi auspichiamo che le ragioni che abbiamo esposto a questo tribunale, che insistiamo, dimostrano la cattiva fede di Whirlpool, che ha firmato un accordo, scegliendo di non rispettarlo, siano riconosciute, consentendo così a questi lavoratori di avere il tempo necessario per costruire un nuovo progetto e un futuro. È chiaro che a fronte di un esito positivo si modifica lo stato dell'arte dell'avvertenza, cioè come abbiamo sempre detto avremo tempo fino a marzo. In caso di altro tipo ci sono tanti di quei vizi di forma per impugnare il piano giudico degli licenziamenti su cui da confronto siamo tranquilli. Intanto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha spiegato che del caso Whirlpool ne ha parlato con la viceministra Todd. Su questo c'è un grande impegno del governo, mi auguro si concretizzi, dando risposte ai lavoratori alla città, ha evidenziato Manfredi. Emergenza carceri infinita da appoggio reale a Santa Maria, capo a Veter e le denunce dei sindacati per le tensioni continue tra detenuti e poliziotti. Tornano ad accendersi riflettori sulle carceri della Campania, da appoggio reale a Santa Maria, capo a Veter e la situazione non cambia. Celle affollate, assenza di piani di rieducazione, strutture fatiscenti. Aldo Di Giacomo, segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria, denuncia le diverse carenze del carcere napoletano. Un'immunizzazione sociale all'interno del quale si butta dentro di più. Oggi le depenalizzazioni hanno un senso, però prima di fare questo servirebbe dalle carcere non tenere delle carceri alcool dipendenti, tossicodipendenti, ma soprattutto le persone che hanno problemi psichiatrici. Questo consentirebbe di rieducare queste persone, che in realtà questi detenuti sono quelli che entrano e poi riescono. Nelle carceri italiane ormai sono diventate ristoro per i criminali quelli veri, perché c'è questa dicotonia. Da una parte i detenuti che in carcere non dovrebbero starci, dall'altra i delinguanti veri che ci stanno e all'interno del carcere comandano all'esterno e riorganizzano i loro traffici. Le croniche di tutti i giorni ci dicono che nel carcere quasi tutti hanno i telefonini. Stessa situazione nel Casertano, dove Donato Capece, segretario generale del SAP, denuncia le continue violenze. Qui si respira la tensione tra detenuti e personale di polizia penitenziaria, spiega il sindacalista. I noti fatti di cronaca caratterizzano il rapporto anche dal punto di vista operativo. Il sacerdote arrestato in Irpini, accusato di atti sessuali su minore, è in attesa dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Bellizzi, intanto in paese a Prada Principato Ultra. Cioè sconcerto ed incredulità. È rinchiuso nel carcere di Bellizzi Irpino, in attesa dell'interrogatorio Don Livio Graziano, il sacerdote originario del Casertano accusato di atti sessuali su un minore salernitano. Il prete gestisce una casa terapeutica in questa villetta di Prada Principato Ultra, che accoglie ragazzi con disturbi legati alle relazioni sociali e all'alimentazione. Don Livio era particolarmente apprezzato per la sua attività, ma a quanto pare non dal mondo ecclesiale. Una decina d'anni fa il vescovo di Avellino dell'epoca, Francesco Marino, quando seppe del suo arrivo in Irpinia, cercò di contrastarne la permanenza. Anche i monaci benedettini di Montevergine, che l'avevano accolto in un primo momento, lo allontanarono. Bocche cuscite nella struttura nascosta tra i vigneti della Valle del Sabato, a due passi dalla Basilica dell'Annunziata. In paese pochi conoscono Don Livio, ma c'è comunque sconcerto e incredulità per una notizia che ha squassato la tranquillità della comunità. Vagamente ho sentito, che devo dire? Sono cose che fanno sconcerto, non fanno bene alla comunità. C'è incredulità in paese, no? Penso di sì, sicuramente. È una cosa che fa male, voglio dire, soprattutto quando ci sono i minorenni, voglio dire, in mezzo. Quindi ci dispiace, ci dispiace. Se veramente la cosa è successa, che sia fatta giustizia. Lei lo conosce Don Livio? No, no, non lo conosco, veramente no. Non lo conosco. Le piazzole di sosta del raccorto d'ostradale Salerno-Avellino continuano ad essere discariche a cielo aperto. Anche sul versante salernitano non mancano gli sversamenti abusivi. La rabbia del sindaco di Baronissi, uno scempio inaccettabile. L'ANAS li rimuova. Se il versante avellinese piange, quello salernitano non ride. Il degrado è il comune denominatore delle piazzole di sosta del raccordo autostradale Salerno-Avellino. Ricolme di rifiuti e abbandonate nel degrado. Una situazione nota, figlia di inciviltà e mancanza di rispetto, che tuttavia potrebbe essere gestita meglio anche dall'ANAS, alla quale più volte si sono appellati i sindaci dei comuni attraversati dal raccordo. Non comprendo, sinceramente non comprendo, queste discariche che ogni tanto vediamo nelle piazzole dell'autostrada, del raccordo autostradale, ovviamente che sono il segno di un'inciviltà totale, di un'ignoranza e di una cafonaggine unica. Voglio sollecitare l'ANAS, che per la verità fa quel che può, a rimuovere nel più breve tempo possibile e a esperire dei sovralluoghi, per rimuovere questo scempio. Il sindaco di Baronissi inoltre ha chiesto all'ANAS maggiore attenzione anche per le aiuole che si trovano in corrispondenza delle uscite, troppo spesso dimenticate e abbandonate all'incuria. All'ANAS rivolga ancora un invito, noi abbiamo le aiuole in prossimità delle uscite e degli ingressi autostradali, insomma ogni sindaco si sforza di tenere la propria città pulita e credo che quelle aiuole vadano tenute, sempre in perfetto ordine, pulite e sistemate e manutenute. Il Covid incubo, Focolaia, Cervinara, screening di massa domani in paese 130, tra professori e studenti isolati, insegnante senza vaccino positivo, appello alla prudenza del sindaco e anche a contrada, tre classi isolate e una docente, risultata positiva al Covid. Il Covid avanza in Irpinia, sindaci in allerta tra focolai nelle scuole e cluster nelle famiglie. Altre 18 i casi in provincia di Avellino e a Cervinara domani ci sarà uno screening di massa disposto dall'ASL per il focolaio esploso nell'ICI De Santis. Drive-in in via San Cosma, primo screening della comunità scolastica per bloccare il virus. Si tratta per la verità di un focolaio che è nato all'interno di una classe della prima media dell'Istituto Comprenditivo di Cervinara. Domani è stato, ha già arrivato il drive-in dalle 9 in poi. Sono circa 130 persone che sono state individuate aver avuto contatti con i ragazzi risultati positivi. Devo tuttavia segnalare che tra i 15 contagiati ci sono 6 adulti. Di questi 6 adulti alcuni non risultano vaccinati. Chi è in età di vaccinazione deve farlo. Qui stiamo parlando purtroppo di bambini che non sono in età vaccinabile. Io invece mi rivolgo ai genitori, a chi non l'avesse ancora fatto, a vaccinarsi quanto prima. Ma tra i 18 casi già accertati nel comune Caudino ci sono anche adulti non vaccinati, tra questi un insegnante senza dose. Anche a Contrada una docente è risultata positiva al coronavirus e ben tre classi sono finite in isolamento. 70 i tamponi da fare tra studenti e prof, altre 18 i casi di contagio complessivi in provincia di Avellino. Tra questi uno per comune ad Ariano Irpino, Avella, Contrada, Domicella, Lauro, Monteforte, Sant'Angelo dei Lombardi, Sirignano, Solò. Fra quattro i casi individuati ad Avellino, tre a Cervinara. Sono saliti a 25 i contagi nel comune Cilentano di Centola, dove si è sviluppato un focolaio in una scuola, partito da un'insegnante positiva, non vaccinata, screening di massa. Dunque il sindaco Stanziola ha chiuso il plesso e invita tutti i concittadini a vaccinarsi. Apprensione nel Salernitano per un nuovo focolaio Covid, aumento esponenziale dei casi registrati a Centola, comune del Cilento. Sono 25 i positivi, coinvolti anche i paesi di Palinuro, San Severino e Foria. La maggior parte dei nuovi casi sono legati a un cluster che riguarda la scuola dell'infanzia e primaria della città. I contagi sarebbero partiti da un'insegnante non vaccinata che ha contratto il virus, come spiega il sindaco Stanziola. Purtroppo devo dire che risulta che non era vaccinata. Anche su questo probabilmente sarebbe opportuno rivedere la normativa che consente l'accesso nelle scuole. Ebbene che soprattutto chi ricopre particolari ruoli è giusto che si vaccini. Ritenuto opportuno, interfacciandomi con la unità di crisi, di predisporre una ordinanza che ho firmato ieri sera che prevede la chiusura del plesso scolastico fino a sabato 30 ottobre. La fascia tricolore di Centola ha chiarito che la situazione è sotto controllo e ha rivolto un appello alla cittadinanza. È una situazione sotto controllo. L'appello che io lancio ancora una volta ai miei concittadini di rispettare quelle che sono le prescrizioni dettate dalla normativa, tant'è che nella stessa ordinanza mi sono anche preoccupato di disciplinare anche l'accesso al cimitero per le prossime festività. Così come ho invitato ancora una volta gli esercenti commerciali a far rispettare le normative. Il Sannio ha ospitato una maxi esercitazione dei vigili del fuoco ed in particolare degli specialisti USAR che intervengono dopo i crolli dovuti ad esplosioni o terremoti per calarsi tra le macerie e salvare vite. Scenario dell'addestramento regionale, il vecchio borgo di Apice devastato da ben due terremoti. Nel Sannio è in corso da ieri una maxi esercitazione regionale che fa parte delle esercitazioni delle colonne mobili nazionali dei vigili del fuoco che vede coi molti tutti i comandi provinciali della Campania. In particolare in provincia di Benevento sono previsti tre scenari. La ricerca di una persona scomparsa a Camposauro, il montaggio del modulo di sopporto logistico nella zona assi di Ponte Valentino e manovre USAR nello scenario di Apice Vecchia per salvare persone rimaste intrappolate sotto alle macerie in seguito ad un terremoto. Ci sono in campo diverse specializzazioni, quelle che stiamo vedendo qui ad Apice e l'USAR che sarebbe l'Urban Search Endrescu, cioè l'attività di salvataggio e ricerca di persone rimaste coinvolte in situazioni di rischio. Apice Vecchia scenario naturale che ben si presta a questo tipo di attività. Oggi il salvataggio di un meccanico sorpreso dal sisma mentre era al lavoro nella sua officina. Ormai il corpo va verso le specializzazioni, non esiste più il pompiere che fa tutto di tutto. Insomma, ogni tipo di intervento ha la sua specializzazione. L'USAR è una componente fondamentale che si sta sviluppando nel corpo nazionale. All'improvviso una nuova scossa e tutti i vigili del fuoco devono lasciare il sito dopo l'allarme lanciato dalla vedetta. Uscendo devono recuperare le targhette che avevano lasciato all'esterno prima di entrare in modo che i coordinatori delle operazioni sanno sempre chi è all'interno o meglio sotto alle macerie e chi è invece uscito dal sito. Ancora una notte di follia a Montecalvo Irpino, distrutta e fatta a pezzi l'edicola votiva della Madonna di Fatima oltre ad altri gravi danneggiamenti avvenuti in paese. Sono le immagini di un'ennesima notte di follia a Montecalvo Irpino. Ad essere presa di mira è stata nuovamente l'edicola votiva della Madonna di Fatima questa volta fatta letteralmente a pezzi. Oltre ad una serie di danneggiamenti che hanno riguardato diverse zone del paese e sui quali stanno indagando i carabinieri. L'indignazione e la preoccupazione del sindaco Mirko Iurillo. Una serie di atti vandalici hanno colpito il nostro territorio sia due giorni fa sia questa notte. ci sono state una serie di distruzioni di beni sia pubblici che privati e soprattutto è stata distrutta anche una cappella votiva dedicata alla Madonna. Quindi è una situazione molto delicata e c'è un forte allarme sociale per questi atti che continuano ad accadere sul nostro territorio. Siete preoccupati? Siamo molto preoccupati, c'è un forte allarme sociale perché le persone cominciano ad avere paura è una situazione davvero difficile. E all'assicuro invece la statua della Madonna di Fatima dopo essere stata consegnata dai carabinieri al parroco del paese successivamente deposta all'interno del convento Sant'Antonio. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Il Tg termina qui. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio al meteo. Vi auguro una buona serata con i programmi del canale 696. Grazie a tutti. Grazie a tutti.